Vediamo sto giochino Accettiamo Ho cambiato la sensibilità Allora vediamo 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 Wow Wow Oh 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 Tornado Oh 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 E' ancora il re! E' ancora il re! E' ancora un po' per i freaks, amici! Che è successo? Mi hanno fatto una bellissima vita! Iscriviti! E' ancora un po' di caldo! E' ancora un po' di caldo! Sì, è una parte! e vaffanculo ma mi buttavo di sotto un'altra volta ma come funziona il punteggio qual è che devi fare i danni no devi prendere le zone devi stare nel cerchietto ah è una cosa bella ok si rai Mi stanno spacchendo Sti pezzi di merda Sono esploso? Che è successo? Come fanno a esplodere? Non capisco Sì ma di sotto In un modo che non potevo rientrare Ah anche io ok perfetto Ok Vai fa il culo pure tu Non sono nato Oh ma Non mi fa muovere? Ti possono buttare via stunnato? Sono ancora stunnato No ma com'è possibile? Sono fermo Mi fa nascere ma sono fermo Adesso mi fa camminare No ma com'è No ma com'è Non ma com'è più ahia lo spaccato il mouse no cattaci tua cazzo ho fatto un botto di danni let's go let's go madonna questa è complicadissima questa mappa a me non mi fa ho fatto il tutorial che posso dare le skill pure per tornare ma non posso fare niente l'ho bloccato guarda guardami che sono bloccato non cammino clicca il tasto avanti sta facendo ah ho fatto ho fatto il dodge l'ho bloccato ma devo stare nel punto? ma vaffanculo è ritornata, è ritornata no! ma vaffanculo mi ha gestinato fuori andata a fare lo esperto fa continuare a isnerato è lato come un colt chiamro我也 consiglio l'immagio dove va mi è aller controlling il flattato più e lo è il avverti Ah, vaffanculo va, sono morto un sacco di volte E questo è il giochino Spero che ti sia piaciuto il breve tutorial E buon divertimento Ciao, alla prossima